Buona battuta! La risolviamo così! 25 a 22 Tommaso, Rino, Rinaldi per l'1-0 Italia. Dai che l'abbiamo presa! Finalmente Tommaso Rinaldi! Vediamo, primo tempo, non riesce ad attaccare, era un po' bassa la palla per Galassi, il muro, forse era fuori la palla. L'hanno tenuta, l'ha tenuta Srat, vediamo se chiude Rinaldi, ancora lui Zorro, ancora Tommaso Rino Rinaldi, ha fatto tutto lui e ha portato l'Italia a vincere anche il secondo set. Attenzione al servizio del Mancino. E' buona, è buona, è buona! Oh! Grande Leandro Mosca! La sua battuta va in alto, Javad, eccolo! La chiude Leandro Mosca! L'Italia batte 3 a 0, soffrendo, ma batte 3 a 0 l'Iran. Grazie! 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 Grazie.